La barzelletta di Geppo Beh guarda, questa più che una barzelletta è un fatto realmente accaduto che mi è successo personalmente proprio ieri Ero in strada camminando con la mascherina e una ragazza mi riconosce con tutta la mascherina Era anche molto carina lei, no? Allora mi si avvicina e mi guarda e mi fa Geppo, gli faccio sì, oddio mi stai troppo simpatico Mi faccio grazie, grazie Poi mi fa, e sei anche carinissimo, capirai come mi ha detto così? Sono pentito tutto tipo un galletta hamburghese, no? Allora mi guarda e mi fa così Ma quanti anni hai? Io faccio 50 Wow, 50 Ma potresti essere mio padre E non lo so, dipendo di chi ha tua madre